Kim e Flaki, Oro e Zonko Chiediamo una collaborazione alle coppie, non venite a chiedere se siamo ancora nella prima fase o no Appena vi dico che siamo nella seconda fase lo saprete, non interrompete e chiedete quando si è che se non andiamo avanti fino a domani Si parte, DJ Dynamite Vai a casa, come adesso L'abbiamo messo per questa battle Se vai con la strumentale faccio io qualcosa No, no, no 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 Grazie a tutti Bella, bella Bella, spu Ma c'è mettere un basco fervo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti